Ciao a tutti ragazzi, io sono Lion, bentornati sul mio canale e bentornati a un nuovo episodio di Troy con il nostro Enea. Vi annuncio che oltre a questa campagna me ne sto giocando un altro paio in singolo, quindi sto effettivamente capendo il gioco. A breve uscirà un video anche dove spiegherò un po' le meccaniche di Troy perché sono molto molto diverse rispetto a tanti altri giochi della Total War a cui abbiamo giocato. Ad esempio questo già è un primo errore, non conviene fare un meno 7 all'influenza per produrre del legname che potrebbe produrre tranquillamente con la tenda del taglio di legna che mi danno 26 più 34, quindi praticamente arriveremo a una sessantina contro i 68, qua ancora di più. Quindi non conviene molto fare questo tipo di struttura in questo preciso momento. Mi sparo subito un emissario, vorrei raggiungere subito l'emissario che è abbastanza importante. Qua ci possiamo tranquillamente fare lui. E come ne stiamo reclutando e dobbiamo poi andare... Eh, vorrei prendermi questa io. Quanti insediamenti c'hai tu? Uno solo. Perfetto, perfetto. Non male. E tu quanti te ne sono rimasti? Sempre uno. Che è questo qua. Quindi possiamo tranquillamente chiudere l'oro. Certo, poi andremo di qua. Tu quanti ce n'hai? Tu ce n'hai cinque. Ce n'hai parecchi di insediamenti. Ce n'hai parecchi. Va bene. No, 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 no. Con lui assolutamente noi li dobbiamo attaccare. Trattato di pace e mi date la legna. Trattato di pace e mi date la legna. Sì, perché quell'insediamento non mi interessa. Quindi sì. Lo facciamo senza problemi. Ok, anche perché mi dà anche la quest che mi serviva. Ok, perfetto. Più 3 il costo, va bene. E direi di spostarci a questo punto di qua. E far guerra a lui. Certo, sei grossino te, eh. E tu che cavolo sei, oh? Ah, vabbè, uno che... Perché disonesto? Le azioni israeli come gli attacchi di confronto degli alleati. Non ho capito perché mi ha dato disonesto. Ho semplicemente firmato un trattato di pace. In fin dei conti non mi sembra una cosa così disonesta. Va bene. E ci spariamo lui. Ci dà 45 di legname. Ok. E qua dovremo fare un bel tempietto. Allora. Noi abbiamo Ares che sta bello su. Ci vogliamo tirare su Apollo. Ho ancora Ares. Forse Afrodite per la crescita. Che non è male, eh. Per la crescita Afrodite non è per niente male. Andiamo con Afrodite, allora. Allora. Qua c'avevamo il tempio di Ares. Qua lo dobbiamo fare. Qua niente. Vabbè, qua adesso lo andiamo a prendere. Ok, quindi andiamo con Afrodite, allora. Sì. E direi a... E... C'abbiamo altri 600. Quindi potremo anche costruire. Allora. Tu sei abbastanza interna. Non credo che... Riceverò degli attacchi imminenti. Quindi potrei anche... Poi provare a costruire lui. Che non mi dispiace. Ho necessariamente bisogno di un diplomatico qua. Assolutamente. Felicità e... Ci vogliamo mettere... Ma questo no. Qua abbiamo quasi fatto, quindi non mi interessa. Forse un 5% in più a tutte le risorse, anziché la crescita. Sì. Ok, tu stai continuando a reclutare. Allora. Vai. Beh, sì. Comunque dobbiamo per forza attaccarli. Perché mi serve la... La capitale. Quindi, sì. Dovremmo fare un atto sleale. Io non ho capito perché mi ha dato sleale. Ho fatto un trattato di pace. Livello di culto diminuito. Va bene. Editto emanato. Va bene. Premunizione del cielo. Va bene. E l'ira di Poseidone. Allora. Abbiamo 1600. Qua ci mancano... Ci manca un turno per crescere e fare l'upgrade. Allora. Qua ci tiriamo su lui. O aspettiamo. Ma io direi di aspettare. Magari ci tiriamo su lui. In questo modo... 6 e 6. Riamo a 1900. Quindi posso costruire... L'altra struttura. Ok. Anche se forse mi sa... Prima faccio l'upgrade. Faccio l'upgrade della struttura... E poi mi costruisco il... Accordi di scambio. Tu mi dai del legno... O ti devo dalla pietra? Ma adesso in realtà la pietra non mi serve. In realtà... La pietra in questo momento non mi serve. Vedi tanto. Dovrei andare a più 80 turno. Quindi va bene. Mentre il legno ancora mi serve. Quindi... Scambio singolo. Eh no eh. Ho appena data la pietra. Non puoi mica continuare a chiedere. Allora. Nudi pescatori o distribuisci il pesce? Nudi pescatori. Che abbiamo un po' di influenza in più. Che ci aiuta. Allora. Eh... Credo che possiamo dichiarargli guerra. Frombolieri, lancieri. Allora. Vediamo se c'ha alleati. No. Lo possiamo tranquillamente fare. Guerra. Ok. Possiamo tranquillamente dichiarargli guerra. E ok. Continua. Ok. Un po' di favore di Ares ci piace. Facciamoci anche una preghiera. E tiriamo su lei. Ok. Poi. Qua. Possiamo fare lui a sette. Sì. Lo facciamo. E tiriamo su a questo punto mille. Andrei a mille e seicento. Posso farlo? Non mi pare perché ne vuoi mille e otto. Quindi no. Tu mi costi un po' troppo. Mille e tre. Non ne parliamo. Forse l'upgrade è qua. Sei e quaranta. Sì. Questo va bene. Ok. Vai. Passiamo. Adesso forse dovremo anche farci la battaglia ragazzi. Perché credo che mi attaccherà. Quindi semmai ci giochiamo... Ci giochiamo la battaglia. No, no. Questo basta. No, non combatti? Va bene. Fatto di un'aggressione è scambio singolo. Con te? No. Qua possiamo aspettare tranquillamente. Non c'è fretta. Non devi combattere i tuoi nemici. Ok. Preghera accolta. Sì, va un fatto di un'aggressione grazie alla diplomazia. Missioni epiche, niente. Quindi ok. E allora, allora qui. E ci facciamo questo edificio qua. Ok. E lei... E... Perché? Passare dal mare non ti piace? Cioè, è troppo impegnativo, pensi? Fare questa cosa marittima. Oh, ok. No, ci conviene aspettare due turni. No, ho sbagliato. Non dovevo fare il sacrificio. Mannaggia, devo continuare a serio. E... Poi interpretiamo i presaggi. Parliamo con qualche morto. Ma non credo. Laura è interessante, ma non è quello che mi serve adesso. E... Un'altra sacerdotessa, però, la vorrei prendere. Allora, la faccio dopo, così racconto sia una sacerdotessa che... Che un emissario. Quindi dopo parlo qui. For morto. E... Che ho più due di livello a... Ah, il reglutamento. E mi faccio sia l'emissario che il... L'altra sacerdotessa. Spendo lo 600 di cibo, che è veramente tanto. Però mi daranno una grossa mano. Un turno ancora. Allora, siamo in... Vista di spese. Quindi... Tutto alziamo. Ok. Qua siamo ancora a posto. Ecco qua. Mi piacerebbe provare a costruire qualcosa. Va bene, passiamo. Ecco qua. Speriamo che non la fanno la battaglia, che non ho tanta fantasia di fare il combattimento adesso. Ok. Quindi dovrebbe andare... In perdita. Inizio almeno tra le alleanze difensive. Ok. Guardiano ci piace. Bonus di esperienza. Avantguardia dei giganti. Allora, quindi dobbiamo con tre alleanze difensive. Tre alleanze difensive. Allora, andiamo. Perché no? Valorazione base è meno 41. Allora, che ci abbiamo? Paride. Allora, ci serve Zeus. Vieni qua. Zeus. Zeus. Che ci dà più 5. Vai. L'ultimo cadere. Allora, ovviamente è l'inizio del locuramento. Ok. Quindi, continuiamo l'assedio. L'emissario è pronto? Sì, è pronto. Quindi. Parliamo col morto. Ah no, degli eroi. Ops, sono sbagliato. 400 di cibo. No. Va bene così. Regula d'agente. Allora, se me lo porto su sarebbero 3. Più numero massimo. Mentre regolamento di emissari. Non mi interessa molto. Quindi, allora. Regula d'agente. Ci facciamo un emissario. Questo non è male. Ma mi sembrano tutti uguali, sì. Agente epico? Posso regolare qualcuno? No, infatti. Forse non qua. Ok. Non è mistero, l'abbiamo preso. Ora, possiamo prenderci. Mi dice, posso regolare un agente epico? Ma... Vedete, ciao. Vabbè. Eh, forse... O è un bug, oppure so io, stupido. Eh... Sacerdotessa... Mmm... Poseidone, no. Ares ci piace. Ok. Ares ci piace. E... Li facciamo fare... Mmm... Meno 8 alla felicità. Però mi dà più 10%. Sì, facciamo lui. Ok. E... Miglioriamo un po' la nostra economia. Ancora con il legno insistiamo un po'. Felicità a meno 4... Non ce la farò mai a fare il... E gli accordi difensivi. Sarà davvero difficile. Ok. Questo è fondamentale. Poseidone colpisce. Ridurla di distrazione successo. Va bene. Incursione. Fazione distrutta. Ok. E... Questo poi ce lo facciamo appena c'abbiamo un po' i soldi. E... Ci facciamo lui. C'abbiamo due bonus. Una a 5.000, una a 4.000 e ce lo facciamo. Anche se il 100 di legname non mi dispiaceva. No. Prendiamoci un po' di cibo. Prendiamoci un po' di cibo. Mazzano ancora? Vabbè, aspettiamo. E... Ah, level up. Ok. E... Prendici di favori. Vai. Servizio di Ares. Ok. L'emissario. Iniziamo... Ah, adesso la realtà ce l'abbiamo. Quindi questo è positivo. Ok. E... Qua? Qua no. Quindi vai. Vai, perfetto. E anche tu? Allora, con lei abbiamo aumentato un pochino le preghiere a Zeus. E con lui, invece, abbiamo aumentato un po' l'influenza ai nostri insediamenti. Ecco, forse lo devo fare qui perché davo le preghiere a Ares che era un po' meglio. E... Ci tiriamo su anche lui? Sì. In tutta la fazione va bene. E abbiamo un altro upgrade da poter fare. Lui non mi interessa. Lui nemmeno. Ma qua sì. Vai. Ok. Economicamente ci siamo messi molto molto bene. Prossimo turno. Credo che farò risoluzione automatica su... Questa... Questo assedio. L'accordo di scambio... Sessant... No. Fatto di non aggressione è scambio singolo. Sei tu qua. No. Non mi interessa. Non mi interessa niente. Ok. Furia di Zeus. Edifici danneggiati. E meno 80% al campo visivo. Questo mi sta massacrando con le incursioni. Ok. Vai. Sacrificio. Meno 7% al morale. E vabbè. E... Andiamo risoluzione automatica. E vediamo chi vincerà. Abbastanza scontato insomma. Duro che... E passa la paura. Vai a casa. Occupiamo. Cibo e bronzo. Va bene. Vittoria decisiva. Pugnale in ferro. Attacco corpo a corpo è 50. Non è male. Provincia messa a sicuro e fazione distrutta. Ok. Abbiamo sistemato la nostra provincia. Diamogli un po' di crescita. E... Ah anche qua ci abbiamo già l'emissario. Io andrei subito a fare un templio. A questo punto... E... Abbiamo sia Afrodite da una parte. Che Ares dall'altra. A questo punto... Direi di continuare a fare un altro Ares. E poi intanto possiamo cambiarli quando vogliamo. Quindi... Vai qua al Tare di Ares. Qua ancora un po' di influenza serve. Quindi vai. Ok. E tu... Eh no. Adesso qua non lo possiamo fare. Mmm... Non mi ricordo. No. Infatti nemmeno qua lo possiamo fare. Eh... Però forse qua lo possiamo fare. No. Niente. Non possiamo più fare questo tipo di rituale. E... Questo lo facciamo. Abbiamo fatto anche un level up. Allora. Carro da mischio. Ma se è il combattimento. Forse è questa. Un carro a me non mi è piaciuto. Quindi direi che questo va bene. Ok. E... Non possiamo upgradeare nulla. Tranne questa struttura. Ma non mi interessa. Anche se devo dire che questo più 4 non è male. Ehm... Ok. Allora. Dobbiamo decidere ragazzi dove espanderci. Ehm... Diciamo che... Tu vuoi 250. Ma anche no. Abbiamo bisogno di... Un pochino di risorse in più. Il legno lo stiamo sistemando. Quindi va bene. Ehm... Oro meno 4 felicità. Influenza meno felicità. No. Influenza no. Forse è questo. Ci prendiamo un po' d'oro? Prendiamoci un po' d'oro. Allora. Ehm... Qui abbiamo firmato la pace. Quindi per ora... Voi dove siete? Siete questi qua. Quindi volendo a loro li potremo pure rompere un po' le scatole. Sì, potremmo andare un po' le scatole a questi. Sì, sì. Deciso. E... Dobbiamo fare una reclutata veloce però. Mi vorrei prendere... Mi vorrei prendere... Allora. Andiamo di qua. Campamento. E... Ci prendiamo. Andiamoci loro. Ok. Poi. Tu. 57. 57. Sta salendo piano piano. Ehm... Possiamo fare l'upgrade a livello 4. Sì. Direi di sì. Anche perché province limitrofe più 4 non mi dispiace. Tu ancora niente. Quindi a posto. Tu. Te ne vai qua. Vai. Ehm... Ci vogliamo fare anche interpreta ai presaggi? Dai. Andiamo un po' che ci esce va? Allora. Cattore il seguente l'abbiamo fatto. Favori di etena più 60. Va bene. Cattore il seguente... Ok. Di nuovo. Detiene almeno. Ok. Uccidi 500 nemici. Lo dobbiamo ancora fare. Ok. Come siamo messi? Quindi con... Riprochiamo Afrodite? Prighiera Zeus. Riprochiamo Afrodite per un po' di crescita. E proviamo adesso magari a rifare qualche trattato. Ettore. Alleanza difensiva o militare? Difensiva. Che mi chiedeva la missione? Non mi ricordo. Allora. Legami antichi. Tre alleanze difensive. Con i troiani. Quindi dobbiamo farla difensiva. E ok. E uno l'abbiamo fatto. Con troia? No. Con paride? No. Meno 5. Mmm. Se ti posso fare uno scambio? Ti offro 500. Ti piace? E se ti dico invece ultimato... Beh, mi pare brutto. Facciamo un'alleanza difensiva. Però se non accetti ti rompo le ossa. Non mi sembra il caso. Ok. Aspettiamo questo turno. Scambio singolo. Ho fatto dire un'aggressione. Mmm. Beh, mi dai 200 di oro. Sì. Questo me lo prendo. Questo me lo prendo. Che c'ho 200 di oro. Mi potrebbe essere utile. Tanto di quello non me ne frega niente. Che io sto andando qua sulla sinistra. Quindi chi se ne frega. Si vuole un patto di un'aggressione. Grazie alla diplomazia. Va bene. Detieni almeno 150 di oro. Ok. Perfetto. Quindi le nostre missioni... Se dobbiamo uccidere 500 nemici in battaglia. Vabbè. Abbiamo quasi... Abbiamo quasi fatta questa praticamente. Allora. Eh, no. Di qua. Vai. Come siamo qua con l'influenza? 58. Eh... Lui me lo vorrei portare qua. Me lo vorrei portare qua. Ok. E... Allora ragazzi. Io chiuderei l'episodio qui. E nel prossimo continueremo ovviamente a sistemare la nostra income. E... E sempre ovviamente a fare un po' di trattati qua e là. E... Andremo a spaccare il nostro avversario. Unificando anche la zonea. E se il video vi è piaciuto ragazzi iscrivetevi al canale. Commentate per contasi dubbi o perplessità o semplice curiosità. E noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzi.